Ecco come si presenta una gomma che ha preso questi famosi e famigerati spini. Il fatto è che non se ne prende mai uno solo. In genere ci sono dei punti 3, 4, 5, qualcuno riesce a... Il massimo è stato 12 in una ruota. È una strage. Sarà pure la fortuna di chi le bici le aggiusta, ma a San Benedetto è prima di tutto l'incubo dei ciclisti che spesso, per colpa sua, lungo le piste ciclabili del lungomare, si ritrovano a piedi con le gomme a terra. Si chiama Tribulus terrestris ed è una pianta spinosa che ormai infesta alcune aree dell'Alviera delle Palme. Colpa della siccità e del caldo fuori stagione che ne hanno favorito la proliferazione. E così nelle botteghe di chi ripara copertoni ogni giorno piovono ruote bucate. La media possiamo essere 3, 4, possiamo essere 12, 13. Quest'anno si vede che le situazioni climatiche sono a lei favorevoli e quest'anno c'è stata l'esplosione di questo fenomeno. Se fosse piovuto un po', non ci troveremmo in queste condizioni. Questo è sicuro. A farne le spese non solo i copertoni delle bici, ma anche le zampe degli animali. Non a caso c'è chi questa pianta infestante ironicamente la chiama baciapiede. Alla faccia delle sue proprietà depurative, diuretiche e pure afrodisiache. A San Benedetto, chi va a spasso sulle due ruote e con gli amici a quattro zampe, farebbe meglio a star nella larga. Certe zone bisogna s'attende. Evitare il bordo del marciapiede verso i pitosfori, stare più verso la carreggiata e non uscire assolutamente dal battuto della pista ciclabile tra Grotta a mare e cubra. Poi la sorte.